Pensiamo spesso a come mettere al sicuro i nostri risparmi, al riparo dall'inflazione, anche con gli strumenti più moderni e accessibili. Per questo oggi c'è una nuova forma di investimento per tutelare il tuo risparmio. I BTP Italia, buoni del tesoro quadriennali legati al tasso di inflazione nazionale. Puoi sottoscriverli tu direttamente online o andare presso la tua banca dal 5 all'8 novembre, salvo chiusura anticipata. Per informazioni www.tesoro.it BTP Italia, una nuova opportunità per il tuo risparmio. Grazie a tutti.